Bene ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Curanonda3 Oggi sono qui per farvi un video velocissimo sull'Ester Egg del quartiere generale E' quello dove troverete tre palloni, in teoria da football, football americano Che vi sbloccheranno, dovrebbero essere tre obiettivi per avere più punti Per avere più punti social e quindi salire di livello Quindi passiamo subito al video e ai punti strategici dove trovare questi palloni Eccoci qui, allora siamo nel quartiere generale, ovviamente nello spawn Sulla destra c'è un cannone antiaereo e in questo punto trovate questo traliccio in cemento armato Come potete vedere il cannone è proprio lì in quel punto e lì si troverà il pallone Salite sopra questo traliccio, vi date una bella spinta e saltate correndo Trovate qui dentro un pallone che vedete qui zoomato Lo recuperate e ovviamente lo lanciate e ciccia Ovviamente questo è il primo pallone della sfida, ne mancano ancora due Passiamo al secondo Il secondo si trova nella vedetta del serie di punti Salite sopra il primo pezzo di legno, sopra questa sticella ulteriore Camminate piano piano, saltate sul gancio di ferro, andate ancora avanti, c'è un'altra sbarra di legno Saltate anche su quella e sopra, vediamo un po', eccoci qui, sopra c'è un gancio di ferro Tornate poco poco indietro, saltate sul gancio di ferro, saltate sul pezzo di legno Ovviamente qui sono caduto Saliamo di nuovo Vediamo quanto tempo ci mettiamo Olè, eccoci qui Ok Adesso saliamo sopra la vedetta E troverete ovviamente l'altro pallone, quello qui sulla destra Prendetelo e lanciatelo dove preferite L'ultima palla si trova nel cinema, qui sulla destra Ovviamente troverete questa sorta di muretto in pietra Saltate sulla sinistra, ecco qui Ci arrampichiamo, passiamo qui Mi salte un picchettino più larghi Più sulla sinistra Saltate sulla prima colonna Sulla seconda Dopodiché vedrete quel tubo in ferro Ci saltate sopra per potervi agganciare È molto semplice ragazzi Non sembra difficile ma è semplicissimo Poi salate su questa sorta di lastra in cemento E ovviamente eccoci qui, qui sopra La palla si trova all'interno Passate per qui lateralmente Accovacciatevi ovviamente per non cadere Andate avanti, 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 avanti Eccoci qui, giriamo Entriamo dentro E c'è la pallina qui davanti a noi Eccola qui Vediamola, sì Recuperiamo sta palla C'è un enigma qui, Kill Roy E ovviamente sopra In questo edificio troveremo Un martello Che in teoria dovrebbe essere un'altra stella Che non ho ancora capito Spero di trovarlo molto presto Lanciamola a casino E niente ragazzi Spero che questo video vi sia stato utile Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare Mettere mi piace se ovviamente lo avete apprezzato Noi ci rivediamo prestissimo Come sto al meglio, al top Per farvi qualche barita su World War 2 E niente, bella Che in teoria dovrebbe essere un'altra stella